Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione. In calo il numero dei pazienti ricoverati nelle Marche aumentano i guariti e i dimessi dagli ospedali. I positivi sono sotto i 100 su 700 test effettuati dai laboratori marchigiani nelle ultime 24 ore. 22 i decessi odierni nelle Marche, tutti con patologie pregresse. Il più giovane aveva 54 anni di Pesaro, mentre il più anziano aveva 100 anni, residente sempre a Pesaro. Dall'inizio dell'epidemia il totale sale a 652 vittime, si contano 222 donne e 430 uomini. Nella provincia di Pesaro Urbino 371 morti da inizio emergenza sanitaria. E' inferiore a 100 il numero di contagiati rilevati sui 700 tamponi esaminati dai laboratori marchigiani nelle ultime 24 ore. Un altro piccolo segnale di rallentamento del trend di diffusione del Covid-19, a seguito delle ulteriori limitazioni degli spostamenti delle persone imposte a fine marzo da governo e regione. Nelle ultime 24 ore è calato il numero dei pazienti ricoverati nelle Marche, da 1141 a 1101. In diminuzione anche i degenti, in terapia intensiva da 140 a 139. In semi-intensiva da 286 a 277. In reparti non intensivi da 522 a 487. I guariti dimessi crescono da 296 a 342. Contestualmente in aumento invece le persone che si trovano ricoverati in area post-critica da 193 a 198 e i positivi che stanno in isolamento domiciliare da 2565 a 2637. In totale i contagiati nelle Marche finora sono 4710, 1956 in provincia di Peser Orbino, 1429 ad Ancona, 664 nel Maceratese, 314 nel Fermano e 235 ad Ascoli Piceno, mentre 112 provengono da fuori regione. Sul fronte isolati in casa per contatti con persone positive al coronavirus sono in 7.335 di questi 2.718 con sintomi e 4.617 asintomatici, tra cui 1.010 operatori sanitari. E sono ancora tante le persone che escono di casa senza un valido motivo. Ieri le forze dell'ordine hanno eseguito oltre 1.200 controlli ed elevato 58 multe. Dall'inizio dell'emergenza i controlli nella provincia di Peser Orbino sono stati oltre 24.000 con più di 770 sanzioni, mentre per gli esercizi commerciali il totale è arrivato a 11.000 con 20 illeciti. Ogni giorno vengono messi in campo tra forze di polizia, polizie locali e militari delle forze armate e non meno di 300 operatori, numero che sarà incrementato nel prossimo fine settimana e nel giorno di Pasquetta. Bisogna evitare l'insorgere di nuovi focolai, ha dichiarato il prefetto Vittorio Lapolla, e non vanificare lo straordinario lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari. E un poliziotto penitenziario ha salvato da un pestaggio un detenuto nordafricano. È successo nel carcere di Pesero, protagonisti dell'episodio, due carcerati italiani che accusavano lo straniero di traffici irregolari tra le sbarre e avevano deciso così di farsi giustizia da soli. Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, il SAP, nel dar merito all'agente, chiede che gli venga riconosciuta una giusta e meritata ricompensa da parte del Ministero. Il Vice Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Renato Claudio Minardi, ha depositato una mozione che presto verrà discussa in Assemblea e che impegna la Regione a difendere ad ogni costo il sistema produttivo marchigiano. Minardi, allora, lei ha depositato una mozione che fa un po' un focus sul problema dell'economia che presto affronteremo e che quindi avrà bisogno di interventi importanti. Alla fine dell'emergenza ci troveremo di fronte ad una situazione estremamente difficile, estremamente complicata, perché tutte le aziende avranno necessità di ripartire, avranno esigenze di liquidità e nel frattempo avranno avuto i costi fissi, nonostante i rinvii, ma ovviamente questi rinvii poi alla fine si troveranno di fronte le aziende a doverci far fronte. Ed è per questo che ho pensato di presentare una mozione con alcuni colleghi in questione regionale, proprio per dare un obiettivo alla Regione Marche, che è quello di reperire tutte le risorse possibili e immaginabili dal bilancio regionale per mettere a disposizione delle imprese, delle attività produttive, di coloro che hanno perso le commesse, di coloro che non hanno occasioni di poter lavorare, mi riferisco in particolar modo per esempio ai ristoranti, i quali domani si troveranno anche ad una difficoltà maggiore, perché la socialità non ripartirà immediatamente, ma le aziende alla fine sono tutte nella stessa situazione. Quindi reperire tutte le risorse possibili e immaginabili della Regione, riprogrammare tutti i fondi europei e non escludo in tutto questo anche la possibilità di creare debito. Io ho letto con molta attenzione l'intervista che ha fatto l'ex governatore della BCE Mario Draghi, che ha detto che in una situazione come questa, che di fatto è una guerra, gli Stati devono rendersi conto anche della possibilità di fare debito, proprio per ridare un'opportunità, rilanciare l'economia, rilanciare le attività produttive, perché se si dovessero fermare le attività produttive non avremo soltanto un problema sanitario e sociale, ma avremo anche un problema economico che poi diventerà ancora peggio. Per cui, proprio per questo, dico che nel mente ringraziamo tutti coloro che lavorano in prima linea, siamo vicini ovviamente a tutte le persone che hanno avuto anche dei lutti, dobbiamo lavorare proprio per creare nuove opportunità alle imprese. Nel frattempo, ieri abbiamo avuto un consiglio regionale in videoconferenza, ieri pomeriggio, e nel frattempo abbiamo rinviato tutte le tasse regionali in essere al 31 di luglio, a partire dal bollo auto. Le più importanti sono il bollo auto, le tasse per il diritto allo studio, e poi ce ne sono altre minori. Credo che sia un obiettivo comune quello di dare una mano all'attività economica affinché possano ripartire e perché possano avere liquidità, io dico anche a fondo perduto, almeno per coprire i costi fissi che hanno dovuto affrontare in questi giorni. E il Comune di Cartoceto si appresta a distribuire i buoni spesa per aiutare le famiglie in difficoltà a causa di questa pandemia. Sindaco, prima di parlare di buoni spesa, le chiedo qual è la situazione a Cartoceto in vista anche di questa diminuzione a livello regionale dei contagi. La situazione sostanzialmente a Cartoceto resta abbastanza stabile, è una situazione che ad oggi vede ancora 55 persone all'interno del Comune di Cartoceto interessate da questa emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19. Attualmente 20 sono purtroppo risultati positivi, molti di essi si trovano in ospedale, pochissimi si trovano invece all'interno della propria abitazione e dall'inizio di tutta questa emergenza purtroppo Cartoceto ha registrato 4 deceduti. Attualmente 20 sono purtroppo risultati positivi, molti di essi si trovano in ospedale, pochissimi si trovano invece all'interno della propria abitazione e dall'inizio di tutta questa emergenza purtroppo Cartoceto ha registrato 4 deceduti. Per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, qui ci stiamo sull'argomento buoni spesa, chi può fare la richiesta e in che modo? Allora, intanto bisogna dire che Cartoceto ha ricevuto 55 mila euro, abbiamo suddiviso questo fondo in tre quote sostanzialmente. Quello più importante è dedicato proprio all'utilizzo per l'erogazione di voucher di buoni spesa da parte del Comune di Cartoceto, possono fare richiesta a quei cittadini di nuclei familiari che presentano al 31 di marzo un saldo cumulativo attivo disponibile di tutti i conti correnti bancari o postali non superiore a 5 mila euro e condizioni sine qua non, e il nucleo familiare deve trovarsi in una di queste due condizioni, o essere un nucleo sostanzialmente senza nessun reddito e senza percepire nessun sostegno pubblico, oppure il nucleo familiare può sostanzialmente percepire un sostegno pubblico, oppure alla luce dell'ultimo decreto Cura Italia, quello che tutti conosciamo ormai come decreto Cura Italia, ha semplicemente ancora inoltrato la richiesta di sostegno pubblico. Queste sono le categorie che possono accedervi. Abbiamo fatto una scelta tra l'altro di erogazione di voucher digitali, elettronici, proprio per una miglior fruizione, per accelerare i tempi degli istruttori anche da parte degli uffici e quindi rispondere più velocemente alle istanze dei cittadini, che mettessero anche nelle migliori condizioni gli esercenti poi di poter rendicontare quello che effettivamente i cittadini hanno speso presso le attività commerciali locali. Sono buoni elettronici di validità quindicinale e i cittadini per poter inoltrare richiesta al comune è sufficiente che si registrino e compilino il form sulla piattaforma buonispesa.sicare.it. Poi ci sono le altre due misure che abbiamo attivato con quelli che sono i fondi residuali rispetto al totale che Cartoceto ha ricevuto. La prima è legata ad un intervento molto importante dedicato a nuclei familiari già conosciuti ai servizi sociali o che la rete territoriale di solidarietà vorrà evidenziare al settore dei servizi sociali per la preparazione di pasti giornalieri. Quindi utilizziamo questi fondi sostanzialmente per comprare derrate o altri beni necessari per la preparazione di pasti che poi saranno consegnati dalla protezione civile o delle associazioni di volontariato. L'ultima invece misura adottata è finalizzata agli interventi diretti da parte del settore dei servizi sociali in collaborazione con le realtà del terzo settore del nostro territorio proprio per far fronte ad eventuali altre esigenze primarie e essenziali che alcuni nuclei in disagio socio-economico dovessero presentare. Questa mattina l'Associazione Nazionale Carabinieri della sezione di Tavuglia e Montecchio ha consegnato 22 colombe e 75 uova pasquali al direttore dell'azienda ospedaliera Marche Nord Maria Capalbo per distribuirle agli operatori impegnati nell'emergenza Covid. Il presidente della sezione Mario Gabanini ha spiegato il motivo di questo gesto. Le uova ci sono state donate dalla Caffarel da consegnare al presidio San Salvatore di Pesaro per l'esempio, la dedizione e lo spirito di sacrificio che stanno dimostrando gli operatori. domani la distribuzione avverrà anche nel presidio del Santa Croce di Fano. E un dono importante è arrivato anche alla Croce Rossa di Marotta Mondolfo. Si tratta di un sanificatore all'ozono per garantire la massima igiene dei mezzi di soccorso. Il servizio di Simona Zonghetti e Filippo Pucci. Sempre operativa e a servizio della comunità anche la Croce Rossa di Marotta Mondolfo è in prima linea nell'emergenza sanitaria. Con 204 volontari e 14 dipendenti continuano a dimostrare un grande impegno e senso civico nel combattere questa guerra. Noi oggi ci siamo recati nella sede del Comitato che funge anche da Centrale Operativa 118. E dare un pensiero a tutte le famiglie che purtroppo in questo momento terribile hanno perso dei loro cari e una preghiera per quelli che stanno lottando contro questa emergenza. Detto questo, sì, il Comitato di Marotta Mondolfo è da 35 giorni operativo H24 sempre per questa emergenza. Noi in questo mese mettiamo a disposizione stiamo mettendo a disposizione un'ambulanza di tipo A a supporto della Centrale Operativa in più dell'altra che abbiamo sempre qui nella nostra sede gestita dall'azienda sanitaria per i ricoveri coronavirus del momento. In più abbiamo attivato un supporto psicologico che è un'attività molto delicata ma anche importante. Si tratta di dare un supporto in primis a tutti i volontari che purtroppo anche loro hanno avuto delle problematiche i nostri dipendenti e poi adesso in collaborazione con il Comune l'abbiamo estesa a tutta la cittadinanza. Le difficoltà quotidiane però non sono poche a partire dalla pulizia e sanificazione di ogni mezzo di soccorso. A rendere più semplice il lavoro ci stanno pensando i tanti cittadini e le associazioni del territorio con le proprie donazioni ma in particolare Oasi Confartigianato di Fano e Marotta in collaborazioni con il Consorzio Senigallia Spiagge ha deciso di acquistare e regalare alla Croce Rossa un macchinario all'ozono che è di grande aiuto al personale e garantisce il massimo dello standard richiesto per l'igiene. L'apparecchiatura viene messa a disposizione anche della protezione civile locale e di tutte le forze dell'ordine che hanno la necessità di sanificare i mezzi d'emergenza. La procedura ritorna l'equipaggio dopo aver trattato un paziente positivo va di sotto nel garage sanifica con questa macchina 40 minuti la macchina deve stare ferma, chiusa una volta sanificato uno degli autisti o volontari sale con la tuta, calzari, occhiali, guanti e pulisce definitivamente tutta la macchina è una macchina che costa 2.200 euro è stata interamente acquistata da questa associazione che noi ringraziamo. E continuano le iniziative di solidarietà per fronteggiare l'emergenza sanitaria oggi pomeriggio il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore Dimitri Tinti hanno accolto una delegazione della comunità senegalese che ormai da 25 anni vive e lavora in città e che ha deciso di devolvere 1.500 euro a favore degli ospedali. E adesso parliamo delle mascherine ormai da molte settimane siamo alle prese con il reperimento e non solo il problema sono anche gli igienizzanti i disinfettanti, i detergenti ma come usarli correttamente? E allora nel prossimo servizio seguiamo un po' le linee dell'Istituto Superiore di Sanità che ha stilato una sorta di Vade Mecum Lino Balestra Disinfettanti, igienizzanti, detergenti il coronavirus in queste settimane ci ha costretto a prendere confidenza con tutta una serie di prodotti che non erano per molti di noi di uso quotidiano e frequente ma che la necessità di sanificare oggetti, superfici confezioni di prodotti acquistati ci ha imposto invece di conoscere ed usare ma essendo prodotti chimici o di tale natura bisogna usarli con grande attenzione e seguendo attentamente le istruzioni d'uso in questo ci viene incontro anche il gruppo dell'Istituto Superiore di Sanità Comunicazione Nuovo Coronavirus che trovate sul sito istituzionale che ha messo online tutta una serie di istruzioni per l'uso non mescolare più prodotti insieme pensando di ottenere così uno più potente contro il virus vietato fare gli apprendisti stregoni quindi si corre il rischio di esporre voi e i vostri familiari a sostanze pericolose che si possono formare durante la miscelazione a rieggiare bene i locali trattati spesso i prodotti utilizzati per la disinfezione contengono sostanze volatili che possono provocare irritazioni e tossicità o reazioni allergiche pericolose fare attenzione alle etichette attenetevi strettamente e sempre alle istruzioni indicate gli adulti faranno in questo periodo la guida ai più piccoli che ancora non sanno leggere le etichette dei prodotti divertitemi con loro come in un gioco a ripassare il significato dei simboli i pittogrammi riportati sulle confezioni che indicano la pericolosità e la composizione dei prodotti infine non lasciate queste sostanze o queste confezioni dei detergenti incustoditi in questo periodo in cui i figli soprattutto i più piccoli hanno tutto il tempo per gironzolare ed esplorare la casa in lungo ed in largo possono venirne a contatto le statistiche dimostrano infatti purtroppo che nei periodi in cui i bambini stanno più a casa il rischio di intossicazione aumenta igienizziamo quindi sì ma in sicurezza e con questi consigli chiudiamo qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito ci vediamo domani mattina alle 7.45 con la rassegna stampa in diretta arrivederci grazie per aver guardato il nostro canale